ed eccoci ciao ragazzi come ti chiami ronny piacere io sono daniele sono il tuo video sei pronto è un po nervoso ma si dimmi dimmi dai sei pronto per fare questo lancio sono pronta sono pronta più rossa che pronta da dove vieni ronny e da un gettolone valese grande ragazzi quando siete pronti ci vediamo in aereo che dici a dopo allora da mi buonietto Ascolti! il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti